L'Italia è ancora più famosa nel mondo grazie alla pizza e alla nostra gastronomia. Se c'è sempre più voglia per i turisti di venire nella nostra penisola è anche grazie alla pizza. Così il ministro del turismo Daniela Santanchè che ha esordito in videoconferenza da Milano dove era per impegni istituzionali con il presidente del consiglio collegandosi con i relatori del convegno che si è svolto nel corso del Pizza Village sul tema turismo, eventi e identità territoriali. Dopo la tappa di Napoli il Pizza Village sarà anche a Milano, arrivando anche all'estero con l'appuntamento a Londra a metà settembre. Un evento che grazie al suo successo ora sta portando altrove la narrazione di un'arte. Questo è il commento dell'assessore al turismo della regione Campania Felice Casucci. Sì, ha fatto tanti milioni di visitatori, ha consentito anche di arricchire la ricettività turistica napoletana in particolar modo ma campana in generale. Durante il convegno al Pizza Village è stata definita tra i due sindaci di Sorrento e Noto la volontà di creare un gemellaggio tra le due città che vedrà come punti comuni il patrimonio storico-culturale e quello enogastronomico. Ne parla il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. È un fatto che mi onora perché con il collega di Noto con cui ho parlato in precedenza abbiamo tante cose in comune, i nostri territori hanno tante cose in comune, soprattutto hanno tante ricchezze artistiche e culturali, hanno un mare straordinario. E proprio Corrado Figura, sindaco del comune di Noto in provincia di Siracusa, è stato ospite al Pizza Village. Noto dimostra di essere fra le mete turistiche italiane più apprezzate ed ecco perché la sua presenza in questo convegno al Pizza Village. Pizza e food possono fare da traino ad altre peculiarità del nostro territorio come l'artigianato. Le parole dell'economista Gianni Lepre. Il food, la pizza possono fare da traino a tante nostre peculiarità positive come l'artigianato di eccellenza, come naturalmente la nautica, noi citiamo spesso la nautica, quindi ci sono degli aiuti che si possono dare al nostro artigianato di eccellenza.